Siamo arrivati a 34 anni di Università dell'Età Libera. Anche in questo mese di agosto è stato confezionato il ricco programma in vista del Via dei Corsi. A settembre, ben 120 corsi, senza contare le ripetizioni consuete che vanno a moltiplicare ulteriormente questo numero, un'offerta sempre ricca e che continua a rinnovarsi. Certo, di fatto oltre, come ha detto lei, giustamente 120 corsi, abbiamo 18 novità, tra cui, molto brevemente, mi piace ricordare lezioni di latino, storia della Chiesa, filosofia, filologia italiana, archeologia, letteratura araba contemporanea, ricamo. Sono tutti nuovi corsi che, sommati a quelli che già facciamo, ampliano ancora di più e sempre di più l'offerta formativa che l'Unilibera da 34 anni offre a questa città. Ormai sono tantissimi i pesaresi che ci conoscono, che hanno frequentato i nostri corsi e ormai è diventato quasi luogo comune dire che andiamo a lezione, come dire, andare al cinema, andare a teatro e quindi anche andare a lezione dell'università è entrato nell'immaginario collettivo e nella realtà anche collettiva dei pesaresi. Un modo di dire è di fare molto diffuso e condiviso e di questo ne siamo molto contenti. Ne siamo contenti perché pur con il post-covid, che è stato un anno molto, che sono stati degli anni molto travagliati, la ripresa è stata notevole. L'anno scorso abbiamo avuto 1.200 iscritti, quindi direi che vicino agli 1.800-2.000 che normalmente abbiamo tutti gli anni, siamo stati abbastanza fortunati. Il nostro scopo è di ritornare quest'anno a quei numeri di 1.800-2.000 perché è proprio la base di cui questa città ne sente la necessità e ne ha bisogno. Ricordiamo anche qualche informazione strettamente pratica, tempistiche del via alle iscrizioni e modalità di iscrizione. Certo, la tempistica inizia il 4 di settembre, sia online che fisicamente di persona alla nostra segreteria. I corsi cominceranno i primi di ottobre, gli opuscoli saranno in circolazione a Pesaro dopo ferragosto, mentre invece la presentazione dei nostri corsi online è già stata fatta e sul sito nostro dell'università www.uniliberapesaro.it sarà possibile scaricarlo e studiarlo.